Prima di ritornare sulla funzione esponenziale, volevo soltanto chiedere un attimo perché questo è negativo, almeno se è n è abbastanza grande. 1 fratto n più 1, puoi scrivere con 1 fratto n per 1 più 1 su n. Questo qui lo puoi scrivere come 1 su n che moltiplica, se vi ricordate, 1 fratto 1 più x quando x era minore di 1, si poteva scrivere come 1 meno x più x quadro più altre correzioni più piccole. Se scriviamo solo il prodotto dei primi due termini, qua abbiamo 1 su n meno 1 su n quadro più altre correzioni più piccole. 1 su n per 1 meno 1 su n per 100. Quello che però non sappiamo per ora, ci sono altri modi per dimostrarlo, questo non è l'unico modo, però io preferisco accennare a questo modo perché anche se non lo sappiamo per adesso, lo sapremo in futuro e questo si dovrà consolidare molto bene. Logarittmo di una quantità 1 più 1, quantità minore di 1, si potrà scrivere come 1 su n, in questo caso, meno 1 su 2 n quadro più 1 su 3 n, punto altre correzioni. Se trascuriamo le correzioni da qui in poi, vedete che quando vado a fare la differenza 1 su n, 1 su n se ne va, ma meno 1 su n quadro più 1 su 2 n quadro è negativo. Le altre correzioni, quelle del tipo 1 su n cubo, sono trascurabili rispetto a questo. Quindi se ne è abbastanza grave, sicuramente questa quantità è negativa. Che vuol dire che questa successione scende. Tutti i resti del ragionamento sono negativo. Detto questo, ripeto, tante di queste cose che stiamo facendo sono delle dimostrazioni fino a un certo punto, perché dipendono da fatti che lo sapremo più avanti oppure non sono stati tutto ben specificati, però sono bene. Adesso voglio ritornare invece sulla funzione esponenziale. La funzione esponenziale, in cui abbiamo fatto un grafico approssimativo precedentemente, ha una caratteristica molto importante, che è quella, se io per esempio vado a fare questo limite, sopra ci metto un qualche cosa che è esponenziale in n, sotto ci metto una potenza di n, però k lo scegliete voi, potreste metterci n, n quadro, n cubo, n, e quando fate questo limite il rapporto tende sempre più in su. Cioè, questo fatto si sottolinea dicendo che la crescita della funzione esponenziale all'infinito è più veloce di qualunque crescita, si dice, polinomiale. Questo poi lo dimostreremo oggi stesso, non è difficile da dimostrare. Allora, è molto semplice, per quale motivo? Prendete questo chiamatelo A con n. A con n adesso non c'entra con quello di prima. Quindi provate a fare A con n più 1 fratto A con n. Quanto fa questo qua? Fa 2 alla n più 1 fratto n più 1 alla k per n alla k fratto 2 alla n. Cioè, fa 2 fratto n più 1, 2 fratto n più 1 su n alla k. A k è fisso, è n che tende a infinito. Quando n tende a infinito, questo tende a 1. 1 alla k fa 1 e quindi questo tende a 2. Che cosa significa? Che il rapporto tra due successivi elementi della successione tende a 2. Se tende a 2, da un certo punto in poi sarà maggiore di 1. Per esempio, è una maggiore di 3 e mezzo. Allora, che cosa significa? Quindi, esiste ni tale che se n è maggiore o uguale di ni allora A con n più 1 fratto A con n è maggiore di 3 e mezzo. Da questo segui subito che A con n è maggiore o uguale di A con i per 3 e mezzo alla n meno 2. Per quale motivo? Io parto da con i, quando vado da con i più 1 devo moltiplicare almeno per 3 e mezzo, a con i più 2 devo moltiplicare un'altra volta per 3 e mezzo e così via. Per andare da con i fino a con n devo moltiplicare n meno ni volte almeno per 3 e mezzo. Quindi ottengo questa maggiore resistenza. Allora, siccome questo tende chiaramente a più infinito 3 e mezzo alla meno ni è una costante fissa con n a con ni è una costante fissa 3 e mezzo alla n e tende a più infinito le altre costanti sono strettamente positive e quindi sicuramente il limite di questa successione fa più infinito più infinito lo rivedremo anche più tardi come conseguenza del teorema di Cesaro prepariamo tra poco però uno dice ma io non so con mente e ora ti faccio con mente allora facciamo uno specchietto qui ci metto n qui ci metto l quadro qui ci metto n alla un milione va bene un milione come potente e qua ci metto due line allora andiamo a vedere chi va più veloce n uguale a 1 n quadro fa 1 n alla un milione fa 1 due line fa 2 quindi l'esponenziale parte anche in mandato però quando n è uguale a 10 n quadro fa 100 questo qua fa 10 alla un milione qua invece viene 2 alla 10 che è uguale a 1024 che è circa 10 alla 3 quindi questo qua è partito ragazzi chiaramente questo è più veloce di questo è più veloce di questo ma questi due già sono più lenti di questa ma questa è molto più veloce di questa allora andiamo a mettere 10 alla 6 cioè un milione metto 10 alla 6 al quadrato fa 10 alla 12 qua quanto fa? 10 alla 6 elevato a un milione fa 10 alla 6 milioni qua invece mi viene 2 elevato a un milione perché è 2 elevato a un milione ma uno dice vabbè sta ancora in mandaggio questo stai fregato andiamo a mettere 10 alla 9 questo fa 10 alla 18 questo fa 10 alla 9 milioni questo però attenzione quanto fa? fa 2 alla 10 alla 9 ma 10 alla 9 è un miliardo siccome 2 alla 10 è maggiore di 10 alla 3 allora questo lo posso scrivere che è maggiore di 10 alla 300 milioni eh guardate che questo è 10 alla 9 milioni questo è 10 alla 300 milioni quindi che cosa è successo? e questo è partito al razzo quella continua ad andare con una certa andatura questa quando la chiappa a un certo punto poi la supera e se ne va lasciandola sul posto se ci mettessi adesso 10 alla 12 qua avrebbe sempre 10 alla 12 milioni qua avrebbe 10 alla 300 miliardi è chiaro? qual è la velocità della funzione esponenziale è chiaro che ci sono vari fenomeni di crescita noi sappiamo che la funzione esponenziale cresce più velocemente di tutte le potenze però ci saranno anche funzioni più veloci della funzione esponenziale per esempio sappiamo che 2 alla n è minore di n fattoriale tranne che per i primi numeri per esempio 2 alla 2 fa 4 2 fattoriale fa 2 però 2 alla 3 fa 8 3 fattoriale fa 6 ma già 2 alla 4 fa 16 4 fattoriale fa 24 qua se andiamo a 10 alla 6 fattoriale 10 alla 6 fattoriale è un numero enorme poi lo impareremo poi vedremo se sarà il caso sicuramente una parte la proveremo ma come si può stimare n fattoriale n fattoriale è circa n alla n fratto e alla n per la radice di 2 pi greco n è maggiore di questo in genere poi qua 1 più 1 su 12 n poi mi pare più o meno 1 su 288 n quadro ma le correzioni successive non me le ricordo la formula se lo mettete la parentesi questo diviso questo tende a 1 non è una formula semplice questa qua si chiama formula di stermo 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 ok? formula di stermo o questa crescita il fattoriale è ancora più veloce dell'esponenziale perché vedete c'è un n alla n anche se lo dividi per n alla n questo n alla n è molto più veloce perché n compare sia sopra che su e quindi ci sono cose più veloci anche della crescita esponenziale però diciamo che normalmente nei fenomeni naturali non capitano spesso già una crescita esponenziale è bella invece la crescita esponenziale capita spesso quando è che si parla di crescita esponenziale in un fenomeno fisico economico ingegneristico ogni volta che c'è un tempo di raddoppiamento se per esempio stiamo parlando di una crescita rispetto al tempo per esempio tutti quanti adesso si lamentano anche la banca centrale europea si lamenta che i prezzi non aumentino abbastanza in fretta se avete presente il quantitativo easing cioè quella iniezione di liquidità che ha fatto la banca centrale europea dal 2013 al 2018 diciamo sostanzialmente è stata per cercare di stimolare l'inflazione che era troppo bassa era scesa sotto il 2% il target è del 2% anche se poi ovviamente l'inflazione al di sopra del 2% invece è pure frenata perché infatti adesso stanno frenando quando si dice che i prezzi aumentano dell'1% mettiamo anche solo l'1% l'anno di che tipo di crescita stanno parlando? esponenziale perché se il prezzo all'anno 0 al fi 0 dopo n anni cosa sarà? 1% significa moltiplicare per 1,01 ma se faccio passare invece che un anno n anni questo lo devo moltiplicare n volte quindi il prezzo p con n all'anno n sarà uguale a fi 0 che è una costante per 1 piccolo 0 1 alla n uno non si accorge della crescita esponenziale semplicemente perché questa costante è abbastanza vicina a 1 quindi per molti anni la crescita si mantiene abbastanza contenuta poi però c'è un punto in cui esplorza se ne deduce che quando si parla di crescita esponenziale cioè ogni volta che avete una crescita percentuale per esempio quest'anno i salari crescono del 2% l'inflazione cresce dell'1% quindi il salario reale cresce dell'1% sono tutte crescita esponenziale ovviamente se tu hai che l'inflazione è del 2% ma i salari nominali scendono del 3% il salario reale addirittura è sceso del 5% chiaro? 2 più 3 quindi questo vi fa capire che queste dinamiche hanno delle diciamo una forza temporale enorme cioè non si possono accettare per esempio nessuno accetterebbe che il suo salario diminuisse in termini reali per molti anni di seguito anche se è solo dell'1% perché 1% quest'anno 1% l'altro anno 1% l'altro anno cosa succederebbe se il salario diminuisse dell'1% l'anno? quanto tempo ci vorrebbe affinché il salario si dimenzi? circa 70 anni un modo veloce di calcolare il tempo di raddoppiamento approssimato ovviamente è questo si fa 70 diviso l'incremento percentuale cioè facciamo un esempio se io ho messo in un titolo che mi rende il 7% l'anno il capitale sarà doppio circa dopo 10 anni se invece rende il 3,5% l'anno sarà doppio dopo circa 20 anni se mi rende il 10% l'anno sarà doppio dopo circa 7 anni questo sempre perché i rendimenti si compongono si moltiplicano ok? ovviamente vale anche che al contrario se io perdo il 7% l'anno in 10 anni si è dimezzato allora per capirci l'attuale crisi economica che è stata iniziata nel 2008 dopo il fallimento della Lehman Brothers e la propagazione della crisi a tutti i resti del mondo stiamo parlando di una crisi che ha interessato una perdita di PIL che si chiama prodotto interno l'urto in due anni nei paesi industrializzati di circa 7-8 punti percentuali meno 5 nel 2009 meno 2 meno 3 nel 2010 ok? dopodiché faticosamente ci sono state piccole crescite positive in Italia c'è stata un'altra mazzata è venuta dopo la crisi del 2011 quando ci fu la dimissione del governo in carica e quindi successivamente ci fu un altro periodo di meno 2 meno 3 però in totale per esempio dall'inizio della crisi ad adesso che sono passati in 10 anni l'Italia più o meno avrà perso 2-3 punti di PIL cioè ancora non è tornata al PIL del 2007 ok? però noi siamo quelli più in crisi quindi però per paragone per capirci come fenomeno considerate che quando cadde l'Unione Sovietica l'Unione Sovietica è caduta nel 1991 negli anni 90 l'Unione Sovietica diciamo la Russia che è succeduta all'Unione Sovietica perché si sono divise tutte le repubbliche ex sovietiche sono diventate singole la Russia ha conosciuto meno 7% l'anno per 10 anni di fila meno 7 meno 7 meno 7 meno 7 meno 7 che significa che in 10 anni il PIL della Russia si è diventata se prima ci avevi se è diventato il PIL se è diventato i salari reali quindi se prima il tuo salario reale ci compravi 1000 adesso ci compravi 500 poi negli anni dal 2000 in poi ha cominciato a fare più 3 più 40 in 18 anni più o meno ha recuperato quello di prima però anche perché partiva molto bassa quindi a un certo punto comunque è riuscita a invertire la situazione quindi è chiaro che queste dinamiche non sono accettabili cioè un paese che abbia un tasso di sviluppo del 3% l'anno contro un altro che ha un tasso di sviluppo del 2% l'anno contro un altro che ha un tasso di sviluppo del 0-5% l'anno e dopo 20 anni tutta la sapete chiaro un'altra dinamica che presenta i chiari anzi qui sono ancora più chiari effetti della crescita esponenziale è la dinamica della crescita biologica vi ricordate la successione di Fibonacci? allora 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 ecc ecc ora ogni numero ha la somma dei due precedenti questa successione come era stata pensata? è stata pensata ci sono x coppie di conigli ogni diciamo a ogni generazione il numero di coppie che viene è la somma dei due precedenti perché per le coppie che sono ancora attive fanno b 1 più 1 fa 2 scusate 1 1 poi poi viene 2 poi poi viene 3 e così questa crescita qui questa crescita qui è esponenziale se vi ricordate noi abbiamo dimostrato che a con n più fratto a con n a quanto tendeva? tendeva a x dove x era circa 1,61 era della precisione pratica al 5 più 1 quindi che vuol dire? vuol dire che a con n più o meno sarà circa radice di 5 più 1 mezzi alla n non sarà esattamente questo sarà questo per una costante c0 perché all'inizio non è vero diciamo tendenzialmente tende a crescere così il fatto che ci sia questo rapporto tende a diventare costante e questa costante qua significa che più o meno a con n si comporterà come una costante per ok ok allora e quindi questa crescita è di tipo esponente potenziale d'altro canto poi sarà scritto anche nei libri di altre religioni io sono la mia quindi mi tengo quella nella bibbia sta scritto che c'è scritto? crescete e moltiplicate se la crescita della popolazione fosse stata lineare avrebbe detto crescete e addizionate crescita e moltiplicate significa la matematica riuscita bene moltiplicate che significa che a ogni tot di generazioni la popolazione raddoppia per i neomaltusiani e questa è chi sono i neomaltusiani? quelli che si preoccupano dell'incremento dell'uomo c'è uno scienziato Maltus dice sì lui aveva visto la funzione esponenziale dice Maltus dove andiamo a finire? quando erano sulla terra 50 milioni 100 milioni ora siamo miliardi se Maltus vivivesse per qualche secondo gli prenderebbe soffitto un infarto e rimorirebbe ma ci sono altri che si preoccupano non è che sia l'unico in linea generale si può anche essere d'accordo che ci sono dei limiti alla crescita in genere questi limiti alla crescita cioè se tu fai crescere una non ne so c'è una cultura qua ci metti una sostanza dello zucchero e qua ci metti dei batteri poi vai a valutare il numero dei batteri dopo un certo periodo di tempo che succede? i batteri vanno così e poi vanno così per quanto dico? all'inizio crescono esponenzialmente poi a un certo punto anche se tu continui ad aggiungere zucchero su quel vetrino più di 8 batteri non ci va quindi il limite alla crescita è imposto dal limite fisico del vetrino tu metti anche un grammo di zucchero all'ora ma c'è un effetto di saturazione perché la cottura batterica tu aggiungi con la tua pipetta una goccia di zucchero di un'attima ma all'inizio è esponenziale poi no poi arriverà una saturazione poi ci sono altre crescite biologiche per esempio ci sono alcune delle crescite biologiche che fanno così l'altra fa così queste per esempio sono regolate dei modelli che si chiamano preda-predatore prima ci sono troppi lupi poi i lupi si mangiano da tutte diciamo le prede che stanno in giro le prede non ci stanno più i lupi muoiono di fame allora le prede si rialzano ciclicamente si alterano questi sono modelli studiati dal matrimato si chiamano volterre comunque diciamo le crescite di tipo biologico sono di un tipo esponenziale per quale motivo? perché la fertilità è legata alla popolazione che c'è in giro quindi la crescita si dice non si dirà mai quest'anno siamo cresciuti di 50.000 persone siamo cresciuti del 1% 0,5% 0,7% per esempio quali sono attualmente i tassi di crescita della popolazione mondiale? la popolazione regione il tasso di crescita del mondo di tutto il mondo staremo all'1,6% annuo in Italia allora qua stiamo a diciamo 0 siamo intorno a 0 che è dato da allora più 0,3 meno 0,3 che fa 0 cosa intendo dire? il saldo naturale è negativo cioè in Italia muoiono più persone di quelle che nascono il saldo complessivo è 0 perché c'è l'immigrazione quindi diciamo se non ci fosse l'immigrazione il saldo naturale sarebbe ero dica le dinamiche se andiamo a vedere negli Stati Uniti qua stiamo a 0,5 per cento più o meno più o meno non prendetelo come vangelo in altre ovviamente siccome qua siamo a 0 e qua siamo a 0,5 ci daranno altre qualche moto e saranno a 2 no la Cina è falsa perché la Cina ha introdotto 30 anni fa la politica del figlio unico dice ma come facciamo noi attenzione dovete capire una cosa qua che queste equazioni qua hanno molto ritardo cioè come vai togliamo anche l'immigrazione attualmente facciamo meno 0,3 facciamo circa 200.000 persone in meno l'anno cioè muoiono 700.000 e nascono 500 oppure muoiono 650 e nascono 400 adesso peggiorerà come facciamo a fare solo meno 0,3 per cento all'anno quando in Italia il numero di figli per donna mediamente è 1,2 cioè allora normalmente una popolazione per riprodursi dovrebbe fare 2 figli per ogni coppia di G2 quindi il numero di figli per donna in una coppia sta una donna dovrebbe essere 2 poi per garantire il fatto che ci sta un po' di mortalità in Italia eccetera il tasso di stabilità di una popolazione è 2,1 quindi allora uno dice 2,1 1,2 è in Italia non ma come fa ad essere così poco scendere così poco in realtà prima di tutto non è poco poi questo perché bisogna andare a vedere qual è la generazione che sta morendo e qual è la generazione che sta figliando cioè facciamo un esempio quando diciamo stava morendo 10-20 anni fa stava morendo la generazione di quelli che erano nani nel 1910 20 anni fa tra il 10 e il 19 cioè degli anni della guerra prima guerra mondiale che erano di generazione piuttosto limitata per via della guerra chiaramente morivano pochi mentre stavano facendo figli quelli nati negli anni 60 che erano tanti tra un po' intanto cominceranno a morire stavano già a morire quelli degli anni 30 anzi tra il 1930 e il 1940 c'è stata una prima espansione demografica in Italia piuttosto consistente perché ha incentivato molto la natalità e qua invece quelli che fanno figli cominciano a essere quelli degli anni 80 e 90 che sono generazioni piuttosto esigue quindi ci sono problemi con le popolazioni ci sono problemi sia di ritardi lunghi sia di ciclicità lunghe facciamo un esempio questo è un altro fatto molto importante da capire questa cosa non riguarda solo l'Italia io per fatti personali conosco un pochino siccome mia moglie è russa conosco un po' i fatti della Russia in Russia c'è ci sono gli effetti si vedono a distanza di tre generazioni gli effetti di tre quattro generazioni gli effetti della seconda guerra mondiale nella seconda guerra mondiale l'Unione Sovieti ha conosciuto 20 e rotti milioni di morti solo la Russia ha conosciuto circa più della metà e tu che cosa hai hai dei buchi generazionali che si ripropongono ogni 30 anni cioè quelli là che quella generazione erano pochi hanno fatto pochi figli e dopo due generazioni ci saranno pochi figli di quelle generazioni e così via e questo fa sì sta cosa può far clolare i governi per esempio perché adesso hanno dovuto anche lì fare la riforma delle pensioni avevano che le donne andavano in pensione a 55 anni le donne andavano in pensione a 60 anni a fronte di una vita media che per gli uomini è a 64 anni quindi è piuttosto bassa rispetto all'età 64-65 forse anche 66 ma in ultimità stava in aumento ma comunque è ben lontana da quelli italiani e delle donne che stanno intorno agli 80 anni uomini la situazione delle donne in particolare era proprio squilibrata 55 rispetto a 80 allora hanno di colpo altro che la fornero hanno fatto da 60 a 65 gli uomini e da 55 in un primo tempo a 65 e poi l'hanno portata a 60 perché la gente stava scendendo in piazza con i colponi per le donne ok ma questo non era dovuto solo all'influenza della maggiore aspettativa di vita perché se avessero dovuto ragionare con l'aspettativa di vita magari avessero aumentato i 5 anni solo le donne il problema non era qui il problema era che in questo momento hanno anche loro che vanno stanno in pensione tutti quelli degli anni 30 che sono tanti e stanno a lavorare tutti quelli che sono nati negli anni 40 e 50 che sono pochi capito? e quindi a certo punto il sistema va in diritto tra 20 anni la cosa si attena un po' e quindi queste sono cose oltretutto queste cose qua sono è vero che c'è molto ritardo però per lo stesso motivo sono largamente prevedibili io com'era la demografia italiana di Mo lo potevo dire 20 anni fa perché 20 anni fa in 20 anni cosa aggiungi? aggiungi solo popolazione da 0 a 20 anni che non va sicuramente ad alterare il futuro insomma a 20 anni ancora non si sposa cioè possono essere poco poco più poco poco meno quindi diciamo sul totale la previsione è sbagliata di pochissimi cioè quindi per esempio sapere quali sono i problemi sulle pensioni per i prossimi 50 anni si sa quali sono questo si sa qua si sa in Russia si sa in America si sa in qualunque paese del mondo chiaro? ok vediamo un attimo della funzione esperienziale abbiamo parlato pure troppo pausa grazie a tutti